Questo effetto Monti Avevo cominciato il restauro, poi è arrivato Monti e ho detto solo un pazzo può mettere un tetto qui sopra perché avrebbe significato un imu molto elevata Se mette il tetto paga l'imu Se io metto il tetto pago l'imu L'imu, l'imposta municipale unica, è la tassa sugli immobili che ha sostituito la vecchia Igi Una villa come questa che costava diciamo in termini solo 10, intorno ai 2.500 euro all'anno ora si avvicina ai 10.000 euro all'anno di imu L'associazione di more storiche denuncia che dopo la stretta data dal governo Monti dal 2011 le tasse su questo tipo di immobili sono lievitate di oltre il 600% Questo è il torione, noi lo chiamiamo il mastio, è la torre più importante di questo castello Voi siete proprietari da? Da circa un secolo E così dopo un secolo una proprietà come questa tra spese e tasse può diventare un peso Perché avete deciso di vendere? Abbiamo 14 eredi, basta? Ci stanno supplicando di non lasciare questa pesante eredità Ma l'eredità può risultare pesante anche se al posto di un castello si è diventato proprietario di un terreno Purtroppo in Italia siamo così, tu hai una proprietà che è un'automobile, una casa o un terreno L'importante è pagare delle tasse Si vedono, ci sono, tu hai una cosa e quindi dal momento che tu hai una cosa io devo avere Dopo il via libera della Camera la nuova imu sui terreni agricoli è legge E molti agricoltori protestano Ci spremono come degli egrumi Siamo tartasciati da tutte le parti Ieri l'altro mi viene il proprietario di questo campo e mi dice Sindaco, ma devo pagarvi il limo? No, uno scherzo? Dovreste essere voi darmi un qualcosa per sistemare la frana? Devi pagare il limo I terreni qua pagheranno il limo? Pagheranno tutti il limo, sì Con la nuova legge, 1600 comuni che prima non pagavano l'imu Ora dovranno dare il loro contributo Ci bisogna fare 260 milioni e questi 260 milioni a parte 167 mila euro derivano dal comune di Travo con questi terreni 260 milioni che verranno utilizzati per coprire in parte l'ormai famoso bonus degli 80 euro La regione ci considera comune montano e invece lo Stato ci considera comune parzialmente montano Se sei considerato comune montano, l'imu non la paghi Ma se sei considerato parzialmente montano, le cose cambiano Siamo a 1040 metri di altezza sul livello del mare e questo è un comune classificato come parzialmente montano Se non è montagna questa, qui d'inverno c'è tanta neve ed è assolutamente un terreno improduttivo anche da un punto di vista di reddito Tassarlo è veramente una ingiustizia Perché se hai un terreno in questo comune e non sei un coltivatore diretto, un imprenditore agricolo professionale Devi pagare È arrivato a limo, è arrivato da pagare Io non mi aspettavo mai di essere trattato così dopo una vita di sacrifici Questo è un rivedo che per mantenerlo, oltre le mie fatiche, usiamo i soldi della pensione Quest'anno non abbiamo raccolto l'olive E dopo una vita di sacrifici, insieme alla pensione, arriva anche la beffa Perché in quanto pensionato non sei più coltivatore o imprenditore e perdi il requisito all'esenzione Quanto guadagnare di pensione? Io prendo le 600 euro Io non ho nessuna idea da pagarlo Io non ho nessuna idea da pagare limo Ho anche il bosco, se guardi da là Il bosco è un passivo completo, no? Perché il bosco... Il bosco lì paga limo? Sì Dice che paga tutto